Abbiamo la possibilità di sentire subito dopo la fine della partita Carlotta Cambi, allora abbiamo visto due partite oggi, 2-0 per Casal Maggiore e poi la vostra rimonta. In campo come l'hai vissuta questa partita? Non siamo partiti secondo me con la giusta intensità e questo ci ha un po' messo in difficoltà all'inizio dei primi due set. Sì, secondo me siamo stati bravi a cambiare regime, è vero abbiamo cambiato il nostro ritmo di battuta, secondo me il cambio di palla è andato meglio e facendo qualche difesa l'abbiamo portata a casa veramente bene. Difesa e battuta possiamo dire sono state quelle fondamentali che hanno cambiato le sorti di questo incontro o anche un calo del Casal Maggiore, mettiamoci anche quello. Assolutamente sì, secondo me il calo di Casal Maggiore è dovuto anche a una nostra intensità maggiore nella battuta, siamo stati veramente bravi a cercare i riscettori giusti e quindi secondo me queste le hanno mandate un po' giù. Diciamo che rimontare sul 2-0 non era semplice, abbiamo un ritmo in allenamento che secondo me possiamo ancora migliorare però questa partita ci dà davvero morale, sono veramente orgogliosa di aver rimontato. È stato importante non mollare anche in un momento difficile, anche per come avete perso i due set che non avete perso neanche molto bene. Sul primo eravate arrivati qua a 24 pari, secondo invece mi pare che Casal Maggiore l'abbia dominato. Assolutamente sì, è molto importante per noi avere quella spinta in più caratteriale e secondo me l'abbiamo fatto veramente bene. Terzo e quarto set sono stati dominati da voi, nel tie break cosa può aver fatto la differenza, forse quello che stavi dicendo prima no? Sì, eravamo sicuramente più sicure dei nostri fondamentali, sapevamo dove dovevamo spingere un po' di più e diciamo che secondo me il quinto set l'abbiamo portato a casa noi. Che campionato dobbiamo aspettarci? Ci sono due classifiche dai, o meglio, due campionati in uno. Per quanto ci riguarda noi dobbiamo cercare di giocare il meglio possibile perché abbiamo avuto dei cambi in formazione che secondo me ci hanno un po' destabilizzato, dobbiamo ritrovare fiducia e questo secondo me deve essere una giocatrice importante come Inter. Assolutamente, assolutamente, quindi dobbiamo trovare continuità, per noi è importante andare avanti così e questa partita non è la prova. Un punto, due punti vinti con merito da voi o c'è anche il demerito di Casal Maggiore? Adesso lo puoi dire, è finita. Oggi direi il merito nostro. Grazie Carlotta, complimenti. Grazie a tutti.